Guardavo questa terra e mi viene in mente che al mondo nulla viene sprecato, sì, perché dalla terra tutto nasce e tutto ritorna, soprattutto gli uomini, che non hanno mai considerato la terra come un bene prezioso, sì, perché l'unica cosa certa che noi abbiamo è che quando smetteremo di vivere saremo là, sotto tre metri di terra, tutto il resto, si vedrà, sì, perché là in cima potrebbe esserci una realtà migliore, ma non sapremo mai se ci accetteranno essendo stati così negativi qua giù. E allora l'unica cosa che ci resta, come sempre, è sperare che una parte di noi vada sottoterra e un'altra parte possa andare là, oltre questa realtà materiale, se saremmo stati capaci di evolvere, usare la testa per capire la nostra realtà, sì, prima che sia troppo tardi.